Buongiorno, 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 buonasera a tutti, sono Luca Dalfabro. Qua ragazzi la situazione sta cominciando a diventare veramente tragica, forse tragica è una parola un po' grossa, però comunque complicata, complicata, bisogna veramente restare a casa, non è uno scherzo, purtroppo è l'unico sistema che abbiamo per sconfingere questo virus, restare in casa, vedersi il meno possibile, o perlomeno vedersi casomai in chat, in telefoni, in cose di questo genere, e poi soprattutto c'è una cosa da dire, bisogna leggere, 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 guardare un po' di televisione, le serie, quello che vi pare, però soprattutto leggere, giocare anche se siete amati a giocare, fare le parole crociate, tenere sveglio il cervello, fare qualche esercizio fisico che non fa male, un po' di flessioni, qualche addominale che aiuta anche quello, tutto sommato non è male, e poi soprattutto c'è una cosa da dire, la casa sarà contenta, perché ci vede di più, sta un pochino di più insieme a noi, le pareti respirano meglio, i mobili ci guardano, sorridono, sono contenti di vederci tutto quanto il giorno dentro casa, insomma è così, amiamola, amiamola, stiamo dentro questa casa, insomma è la nostra casa, è abituata a vederci, quindi neanche si spaventa troppo insomma, va bene, mi raccomando, mi raccomando, allora a casa, tutti a casa, come un famoso film, mi sembra che la regia fosse, adesso non mi ricordo, la regia non me la ricordo, era con Alberto Sordi e Sergio Reggiani, la regia non me la ricordo, non mi sovviene al momento, ecco questa è una buona cosa, andate a vedere di chi era la regia di tutti a casa, forse come in cinema, non ci metto la mano sul fuoco, va bene, buona permanenza casalinga a tutti, tanti 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 cari auguri e speriamo presto di uscirne, che vi devo dire?